Ciao a tutti e benvenuti anche da parte mia. Come sempre in questa sessione della Summer Trading Club andrò a rispondere a tre delle vostre domande che ci avete inviato all'indirizzo traderschiocciolalfaforall.com riguardanti e inerenti sia alla Trader Workstation di Interactive Brokers che al broker stesso. Partiamo subito con la prima domanda del giorno, domanda di Davide che ci chiede. Ciao ragazzi, ho una domanda su Spread Beta 7LUV-22AL in studio qualche giorno fa. Dopo l'importante drawdown dei giorni scorsi sono entrato a meno 171,7 dollari, lunedì 8, per pura fortuna direi. Ho messo però l'operazione in demo perché volevo capire meglio la gestione del tasso commissionale di AAL che era lievitato superando l'11%. Giovedì 11 ho chiuso solo in gain AAL con un guadagno di circa 100€. La domanda è, il tasso commissionale che nel frattempo si è ridotto è già stato scontato nel gain oppure è contabilizzato da qualche parte e se sì dove lo vedo? Insomma, c'è qualche considerazione da fare su sto tasso e in particolare se un movimento anomalo lo fa aumentare tantissimo? Allora Davide, il tasso commissionale che aumenta di molto in pochi giorni, in un lasso di tempo breve, non è detto che ti faccia aumentare di molto quelle che sono poi le tue commissioni anche perché devi sempre considerare che quell'11% che tu trovi sotto la colonna tasso commissionale all'interno della TVS è annuale, quindi c'è l'11% annuale sulle quote di azioni che tu hai in macchina nel caso in cui le avessi short. Quindi questo tasso commissionale che aumenta che cosa ci indica? Ci indica che ci sono tanti shortisti sul titolo, quindi tanta gente in quel periodo ha venduto o sta vendendo allo scoperto o liquida parte delle proprie posizioni sull'azione stessa e quindi il tasso commissionale va ad aumentare. Per quanto riguarda invece la precedente domanda, quindi dove ci chiedevi se il tasso di commissione che nel frattempo si è ridotto è già stato scontato nel gain oppure è contabilizzato da qualche parte e se sì dove la vedo? Allora non è contabilizzato nel tuo gain, lo trovi però sotto la voce interessi nel caso in cui tu sia all'interno della tua piattaforma simulata o nel dettaglio vendite azioni allo scoperto in piattaforma reale, questo qualora vai a generare un report per attività dal tuo conto Interactive Brokers. Vi faccio anche vedere velocemente come si può fare, io vado subito a prendere quella che è la mia piattaforma simulata, un attimo solo che si è disconnessa e intanto che si è riconnette vi vado a spiegare nel dettaglio come si va a prendere questa voce. In alto sulla nostra piattaforma abbiamo più voci, file, trade, modifica, conto. Noi dobbiamo prendere la voce conto che non è quella che abbiamo nella barra degli strumenti con le monetine sovrapposte ma è proprio la voce conto, la scritta, andiamo lì e andiamo sulla voce visualizza rendiconti. Quando cerchiamo su visualizza rendiconti ci si apre una pagina web e questa pagina web che ci si apre ci porta sull'account management di Interactive Brokers. Una volta che siamo, ecco qua che si è connessa la mia piattaforma. Allora, conto, visualizza rendiconti, mi si apre quello che è il account management di Interactive Brokers e vado direttamente a visualizzare quello che è un rendiconto per attività. Attendiamo il caricamento. Andiamo quindi attività. Clicchiamo su esegui. Prendiamo da inizio mese. Io ho una piattaforma in questo caso davvero scarna perché ho appena registrato un altro video che trovate sempre sul nostro canale YouTube dove spiego bene come impostare nel migliore dei modi la tvs simulata appena diciamo andate a creare un account per poterla gestire nel migliore dei modi. Comunque questo è l'account statement quindi il vostro report di Interactive. Dovete avere una voce che si chiama interessi o un'altra voce che si chiama dettaglio delle azioni short e qui all'interno del report troverete quanto avete pagato per le vostre azioni. Passiamo alla seconda domanda del giorno domanda di Francesco che ci chiede. Prima di tutto grazie per i vostri video. Grazie a te Francesco per le domande che ci poni. Sempre preziosi. La mia domanda riguarda la voce interesse da inizio mese della dashboard della tvs. Come si fa a capire su cosa sono maturati? Nasce da un caso reale occorso. Gli interessi da inizio mese sono passati da poco più di un dollaro a 46,45 usd in un solo giorno dal 22 al 23 giugno. Sia il conto in euro che quello in dollari sono a credito anche come saldo per valuta. Ho provato a cercare una spiegazione sul portale ma ancora non riesco a capire. Un grazie anticipato per la vostra risposta. Allora non ho capito bene se sono passati da poco più di un dollaro a 46,45 dollari in negativo o in positivo. Questo fa differenza. Quindi è possibile che passino da un giorno con l'altro da un dollaro a 46,45 dollari perché i tassi di interesse sono ad esempio negativi per chi ha una liquidità superiore ai 100.000 euro pari a un meno 0,8 per cento annuo e potete leggerlo direttamente anche sul sito di Interactive Brokers. Cosa succede? Nel momento in cui hai una liquidità superiore ai 100.000 euro ti viene tassata ogni mese diciamo una piccola percentuale di quella che è la tua liquidità e questo ovviamente non è che viene fatto giorno dopo giorno viene fatto sempre lo stesso giorno del mese e quindi questo può essere possibile. Adesso dal 22 al 23 giugno per quanto mi riguarda e per quanto posso capire diciamo dalla tua domanda il dollaro non ha più dei tassi di interesse diciamo positivi che vengono corrisposti al cliente. Ha tassi di interesse a zero quindi anche se hai diciamo dei dollari a credito degli interessi maturati non li potresti avere. La stessa cosa sugli euro anzi se hai più di 100.000 euro come ti anticipavo hai addirittura diciamo paghi dei tassi di interesse e quindi va tenuta veramente molto sotto controllo. Mandaci un'altra domanda cerca di magari allegarci anche qualche screenshot della tua dashboard e della voce conto. In questo caso l'account, quella con le monetine per farci vedere i saldi valutari FX reali presenti nel tuo conto in modo tale da indagare meglio su quella che è questa situazione. Nel caso in cui invece volessi prenotare una sessione di personal coaching per capire proprio come leggere il tuo rendiconto quindi come entrare nel vivo e nel dettaglio di quello che stai portando avanti con Interactive Brokers per avere diciamo le idee più chiare senza nessun tipo di problema. Qua in descrizione puoi trovare il link per prenotare una coaching con me o con un altro dei nostri esperti. Passo all'ultima domanda di Davide che ci chiede. Ciao Samuele come hai fatto a creare velocemente righe in più sulla tvs. Grazie. Allora vi faccio subito vedere andando a riprendere quella che è la mia piattaforma. Allora eccomi qui. Mi sposto ad esempio tra AL e APL quindi tra American Airlines e Apple. Come dalla slide precedente c'è un tasto sulla nostra tastiera che si chiama INS o INSERT dipende un po' da che tastiera avete. Cliccando questo tasto possiamo andare a inserire nuove righe nella nostra Trader Workstation. Per oggi è tutto. Ripasso la parola regia alla regia ricordandovi di mandarci i vostri quesiti, i vostri dubbi e le vostre domande a traders.alpha4all e risponderemo sicuramente nelle prossime sessioni della nostra Summer Training Club. Grazie a tutti e una buona giornata.